Grazie alla sezione Silloge, Patrizia Mariettini. Colpisce nella poesia di Patrizia l'apparente semplicità nella descrizione latente della vita, una descrizione che in realtà appare meravigliosamente ricca di sfumature proprio nei suoi versi. In questo consta la sua capacità evocativa nella quale la natura oggettiva è colmare il ruoto di un'anima alla continua ricerca del volere vivere consapevolemente. La poetessa si mantiene sempre viva e concreta, mentre attorno sogni ed incubi ruotano i votici persistenti, mentre si allontanano e ritornano e ancora si allontanano. In questi straordinari versi l'essere umano viene definito come la sintesi di una sofferenza estrella, quindi la figlio a cui aggrapparsi per una salvezza. Di certo capita talvolta che l'uomo è come un granetto di sabbia che tende a sparire in dimensioni temporali e strade, quindi si ha talvolta l'impressione di capire il crimine. La poesia di Erwin è dunque tutto questo, la forza di volontà, la voglia di vincere, la partita complessa della vita, cercando rifugio nel sentimento e nell'uomo come intima capacità di ritrovarsi. Tutta la siloce, la paro di teatro del froncaere. Seconda classifica, la sezione siloce, Alessandra Pannico. Una poesia naturale, spontanea, incredibilmente cristallina, quella di Van Nicola, autrice capace di creare metrica, sintassi e musicalità, i liriche che da sole sortiscono dal foglio, senza la sfissia di uno studio premeditato. Se è vero che il pensiero malinconico e dolce per vale la sua poesia, è anche vero che in essa, amore e relazione, si fondono alla ricerca quasi fruttiva di una gioia totale, con la consapevolezza che a volte appare inarrivabile. Dunque una poesia moderna, ma capace di ricordare anche la diacora pascaliana, in cui una parola, un verso, un concetto, viene usata dapprima come una sfumatura, successivamente assume un significato diverso. Altrove, l'ultimo treno sverraia lontano, le sue malinconie binari, mentre noi siamo qui a chiederci sulla panchina di una stazione battuta dal vento, attorno, smarritti all'ennesima fermata fantasma, su questi treni che continuano a perdere, conducano in qualche luogo solo altrove, e se la meta è altrove, che senso abbia una valigia interna? Forse per l'altrove bastano solo due occhi e una pelle, per tracciare quei sentieri di pioggia e carta che ancora non ho scritto. E se continuo a lasciare scorrere treni e pensieri, significa che ho ancora occhi per vederli? Ma ho perduto il cuore per afferrarli? Se andiamo in qualche luogo, il senso è scritto nella meta. Se partiamo per l'altrove, la meta è il viaggio, e il senso del viaggio è abbandonare valigie e stazioni, aprire il cuore alla polvere della strada e camminare, 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 finché nel pozzo oscuro che ci portiamo dentro non si riflettono le stelle e gli occhi che ancora non sappiamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. quelle chiavi filosofiche che rendono chiara la luce dietro le medie, che riversano i strati filettori. Cosa ti spinge a me fra questi diruti di sete d'essere, come lupi saziarci, lavarci via tristezza e nera fasia di pelle inascoltata, ti odio quando non ci sei, frutto dolce e raro o bui imbratto, ti amo perché sei, prego la vita, non ti lavi via, non ti scavi di dolore, lasci via, oltre la notte, oltre l'albosio. Grazie. 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 Grazie.